Sabato 8 luglio, Santa Gliceria Martire. È il 189esimo giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 176 al termine. Il sole sorge alle 5 e 30 e tramonta alle 21 e 01. La luna si leva a mezzanotte e 07 e tramonta alle 11 e 28. L'imperatore Ladislao d'Ungheria cede a Venezia Zara, Pago, Novograd e diritti regi su tutta la Dalmazia. Le previsioni per domani. Giornata di stampo estivo con cielo sereno e temperature in ulteriore aumento fino ai valori moderatamente superiori alla media del periodo.